I carabinieri della stazione di Città di Castello hanno denunciato un 35 neti fermate per maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione abusiva di armi e munizioni. Da tempo l'uomo avrebbe tenuto nei confronti della convivente coetanea un comportamento particolarmente violento e versatorio. La donna infatti era costretta a subire continui ingiuri e percosse, a seguito dilitti scoppiati anche per futili motivi, il tutto tra le mura domestiche nell'appartamento situato nella zona nord del comune al confine con San Giustino. Martedì sera la situazione è ulteriormente precipitata. Al culmine dell'ennesima lide in casa infatti l'uomo, oltre ai soliti violenti comportamenti, avrebbe anche minacciato di morte la compagna che, temendo per la propria incolumità, ha subito chiamato i 112. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri che, una volta ricostruito quanto accaduto, hanno subito portato la donna in un luogo protetto e nascosto. Successivamente i militari hanno proceduto al sequestro dei fucili da caccia, quelli di precisione, oppure ad alto impatto, oltre che alle pistole, per un totale di 19 armi. Insieme c'erano anche 1700 munizioni. Sequestro ritenuto necessario, in quanto il 35enne non era più idoneo a possedere queste armi. Il Tifarnate sarà chiamato a rispondere, oltre che per le violenze domestiche, anche per la detenzione di munizioni non denunciate alle autorità.